Vasco Rossi, testimonial della Puglia, l'idea è stata lanciata dall'assessore provinciale Sergio Fanelli in una lettera inviata al governatore Vendola, introna a Schittulli e Perrone. È stata una sua richiesta, quella di voler diventare cittadino pugliese, ha detto vorrei essere cittadino pugliese. Da lì è nata chiaramente l'idea di poterlo vedere come testimonia della nostra regione, in quanto non esiste la cittadinanza pugliese, la cittadinanza chiaramente viene rilasciata dai comuni. Vasco trascorre da qualche anno le vacanze a Castellaneta Marina e a quanto pare sta pensando di allungare il periodo di permanenza in Puglia a sei mesi. Quest'anno ho scoperto la pizzica e quindi questa comunione di animi fra la musica e il ballo è bellissima, devo pensare a qualche progetto in tal proposito, per cui ho detto va bene, sarà il primo punto all'ordine del giorno perché un Vascom come sottoscritto non può che essere contento di questa ipotesi anche per il messaggio positivo. Chiaramente Vasco parla tramite Twitter, tramite Facebook a migliaia e migliaia di fans. Fanelli e il Blasco si sono incontrati un paio di settimane fa, il primo in veste di Assessore Provinciale ma anche di fan. In realtà l'Assessore Provinciale fa parte di una band che si chiama? Vasco Show Band. E canta? Canta quelle che sono le canzoni di Vasco.